Cesaro ha emesso un'ordinanza ma sono di facciata perché io che ho frequentato... Eccola, eccola, scusate, scusate, il terremoto, scusate, ecco la scossa del terremoto, questa è forte, questa è molto forte, fortissima, ed è anche molto lunga, molto lunga, molto lunga, è una scossa di terremoto fortissima, sono le 21 e 19 minuti e ancora non è finita, ancora continua, ancora continua. Ancora continua, leggermente ma ancora continua. E se la sentiamo di questa entità qua significa... Significa che è una scossa molto, molto forte, Sindaco. Sì, speriamo bene perché... Scusate ma non è facile, speriamo davvero che la situazione si normalizzi e che non sia successo nulla di grave. Ma chiaramente se tanto mi dà tanto, se tanto mi dà tanto, quella che abbiamo sentito era forse la più forte scossa, anche più forte di quella del 24 di agosto. Se l'epicentro è rimasto lo stesso, devo dire che probabilmente questa è molto più forte di quella delle altre. Scusate. Grazie a tutti.